Continua la raccolta fondi per l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. È stato il sindaco di Vallo, Tony Aloia, nei giorni scorsi a farsi promotore di una sottoscrizione per donazioni, volte all'acquisto di nuove attrezzature elettromedicali da destinare all'ospedale Cilentano. Si è subito ottenuta la disponibilità della Banca del Cilento, Sassano, Vallo di Diano e della Lucania all'apertura di un conto corrente dedicato all'iniziativa. Tutti sono chiamati a partecipare, donate e fate donare, versando un contributo a questo conto corrente bancario. L'ospedale San Luca dispone sicuramente delle necessarie professionalità e di adeguati presidi sanitari per far fronte all'emergenza, ma è doveroso che le istituzioni pubbliche e private incoraggino iniziative finalizzate al potenziamento della capacità di risposta ad un'eventuale malaugurata propagazione del contagio. Inoltre, nell'attuale situazione di emergenza, il piano di zona S8, che vede Vallo quale comune capofila, ha messo a disposizione un servizio di supporto e sostegno psicologico a distanza con la collaborazione di personale sanitario specializzato e in via di potenziamento anche il telesoccorso, che offrirà un ulteriore supporto agli utenti ultra 65 anni non autosufficienti. Infine, il dottore Aloia, sindaco di Vallo, rimane a disposizione per ogni evenienza e mette a disposizione i suoi recapiti telefonici 333 388 9863 e 0974 4441. Colgo l'occasione per comunicare il mio numero di telefono, in qualunque ora mi potete chiamare 333 388 9863 e quello di casa 0974 4441. Chiamate in qualunque momento se avete bisogno.